salve a tutti e ben ritrovati dal vostro gioco ci ritroviamo su dissidia final fantasy opera omnia versione giapponese perché oggi è uscita la boss rush uscita la boss rush non è la sola cosa ovviamente su cui dobbiamo focalizzarci oggi perché è anche uscita l'ld di wak un ld che abbiamo discusso abbiamo anche analizzato sotto certi punti di vista su twitch quindi per chi ancora non sapesse effettivamente cosa fa la ld di wak può tranquillamente anche leggere tutto sul mio discord oppure andarsi a rivedere la live dove appunto abbiamo analizzato e parlato delle led di wak un ld che comunque non è malvagia dal punto di vista dei debuff non è malvagia dal punto di vista quanto pare anche dei danni bisognerebbe vedere però effettivamente come collocarla in un kit come quello di wak che a mio avviso è un pochino altalenante wak comunque di per sé non è mai stato un personaggio tremendamente scarso almeno io non l'ho mai reputato tremendamente scarso forse un pochino sottotono rispetto ad altri personaggi in quanto abbiamo comunque anche la capacità di dare debuff randomici con la ex ad esempio che mi ha sempre lasciato perplesso avrei preferito magari un buff quasi sicuro no mentre invece così non è stato detto questo io adesso voglio voglio andare a fare la free voglio andare a vedere che cosa mi uscirà dalla free o anche circa 50 ticket che voglio andare a spendere sul banner di wak però prima andiamoci a concentrare e vediamo cosa effettivamente uscirà dalla prima free multi istola sinergica con burst ovviamente senza led setzer wak e sherlotta i personaggi presenti all'interno della boss rush non ci sono altri banner ovviamente con wak quindi è un banner unico della boss rush con il rilascio della nuova led di wak e niente poi gli altri personaggi ovviamente come 3 che sarà sinergico per l'appunto grazie al fattore lost chapter quindi sarà sinergico anche 3 e poi tutti quanti gli altri li utilizzeremo durante la boss rush quindi stasera già vi do l'appuntamento sul mio canale di twitch per fare insieme la boss rush detto questo io direi che posso anche mutarmi perché voglio concentrare il mio potere dello sculo se così si può chiamare per trovare qualcosa all'interno di questo banner abbiamo la free multi più questi 47 ticket che andrò a spendere per tentare di trovare le led di wak vediamo che cosa succede e poi decidiamo il resto quindi io mi muto vi dico di mettervi comodi e godervi le pull a 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.